US, ultima sigaretta. Forse questa annotazione che Zeno Cosini fa sul suo diario è la chiave più affascinante della coscienza di Zeno di Italo Svevo perché nel momento in cui Zeno scrive questa periodica annotazione che segna tutti i momenti più importanti della sua vita ci dà anche ritmata la dimensione del sviluppo della sua nevrosi e della sua incapacità di affrontare il mondo e ci porta lentamente dalla giovinezza fino alla tarda maturità forse alla morte. Comincia questa storia con il rapporto tra il protagonista e il suo psicanalista e faccio notare poiché siamo tra la fine dell'ottocento ed inizio del novecento sta precorrendo quello che è stata una buona parte della letteratura nordamericana del seconda metà del novecento. Bene, Zeno guarda in questa direzione con la curiosità di un uomo assetato di capire e di scoprire ma poiché anche lui evidentemente viveva le sue piccole nevrosi si infila dentro il personaggio. È evidente che Zeno è anche Italo Svevo ed è evidente che la storia che lui racconta permea un po' la vita della Trieste di fine ottocento che Svevo ha vissuto. La storia straordinaria della morte del padre che dopo un ictus prima di morire da un ultimo violento inutile è ingiustificato schiaffo al figlio e un altro di quegli inizi di qualcosa che di traumatico si porta dietro tutta la vita il nevrotico Zeno e poi poi la vita da solo da scapolo fino al bisogno di sposarsi. Un matrimonio è necessario lui sente bisogno di mettere la testa a posto come sarebbe detto ma non sa dove andare a parare incontra una famiglia tre sorelle due bellissime una no la quarta più piccola gli da subito del pazzo e soprattutto l'inizio di una tentativo di fidanzamento che andrà male. La più bella Ada non lo ama lui la ama appassionatamente ma naturalmente questo non avviene. Appare in questo momento durante le frequentazioni della famiglia Malfenti quella delle tre sorelle impaiono un paio di verifiche straordinarie della nevrosi di Zeno. Quando compare Guido Speyer che poi si fidanzierà e sposerà con Ada la bella quella che lui ama lui viene preso da una gelosia spaventosa vorrebbe fare qualcosa. La notte passano passeggiando tutta la notte in giro per la città a un certo punto Speyer che uno spericolato si sdraia su un muretto sotto il quale c'è un precipizio. Qui un momento straordinario Zeno pensa di ucciderlo e lì che sta cercando di buttarlo di sotto lo odia perché Ada ama lui e non Zeno e quindi tutto sommato si sentirebbe di buttarlo di sotto senza soffrirne ma poiché aveva pensato di sposare Ada soltanto perché così avrebbe dormito meglio la notte a un certo punto si ferma e dice oddio se lo butto di sotto stanotte non dormirò bene e quindi la vita di Guido è trattenuta soltanto dal bisogno di dormire di Zeno e poi mille altre cosucce come il fatto che avendo incontrato una persona che zoppica e saputo che ci sono 54 muscoli che fanno muovere la gamba comincia subito a zoppicare perché non riesce a controllare i 54 muscoli e via di questo passo è a paura di morire soltanto perché la moglie si ritroverebbe poi un altro lei dice non potrebbe mai succedere sono troppo brutta e lui allora si convince che avrebbe potuto godere di una putrefazione tranquilla e via di questo passo tra follie e realtà in realtà Zeno vive una vita normalissima tanto è ipocondriaco e sogna continuamente qualche nuova malattia tanto invece sta benissimo con la famiglia con la moglie certo c'è un momento in cui si innamora di una ragazzina Carla quest'amante getterà un momento di panico nella sua vita crede di essersi fondamentalmente innamorato ma in realtà è soltanto una piccola passione e a un certo punto si rende conto che non poteva sopravvivere anzi glielo dice dovresti trovarti un fidanzato quando poi lei se la trova naturalmente si arrabbia moltissimo a un certo punto si mette in affari con Guido Guido Speyer l'uomo che lui odiava diventa il suo miglior amico ma Speyer è un personaggio insopportabile non sa lavorare si mette subito a amoreggiare con una segretaria che diventerà la sua amante a un certo punto perde un sacco di soldi in un fallimento demenziale di un affare e quando dice a Zeno la vita è ingiusta è dura perché si sente Zeno gli risponde no la vita non è né ingiusta né dura la vita è originale cerca il suicidio Guido e in qualche modo noi sappiamo che questo è un gioco che non può che andare a finire lì tant'è vero che di fronte all'ennesimo rovescio economico Guido Speyer si uccide qui inizia un altro di quei momenti esilaranti della storia della coscienza di Zeno Zeno insieme al suo fidato agente di cambio si precipita in borsa e cerca disperatamente di recuperare quello che è un patrimonio completamente distrutto dagli investimenti folli fatti da Guido Speyer e mentre gli altri stanno organizzando il funerale gioca freneticamente in borsa fino a che riesce a ricostituire praticamente tutto il capitale allora in ritardo si precipita al funerale segue una carrozza con un funerale in corso e quando arriva lì è il cimitero greco ma era greco il signor Speyer si chiede no non era greco era il funerale sbagliato aveva naturalmente seguito il funerale sbagliato tutto tutto va a rotoli in questo modo è finita non la voglio più fare la psicanalisi perché continuare si chiede quando ormai è diventato l'uomo maturo e soprattutto sicuro di sé amato dalla moglie dalle cognate bene avevo amato mia madre e ucciso mio padre quindi non avevo più bisogno di una cura anzi dovevo curarmi dalla cura dovevo guarire dalla psicanalisi la conclusione beh sicuro di sé molto più di quanto non fosse accaduto prima anche Zeno deve confrontarsi con la guerra rimasto isolato dalla moglie cercherà di fare buoni affari e lo farà e concluderà questa dimensione di racconto dedicata al suo psicanalista che dovrebbe trarne qualche insegnamento dicendo che tutto sommato la vita assomiglia un poco alla malattia ma a differenza delle altre malattie è sempre mortale beh la conclusione è particolarmente pessimista perché con la conclusione della guerra Zeno vede anche di fronte a sé il cambiamento che l'uomo ha inquinato l'aria ha inventato del terribili ordini e purtroppo qualcuno potrebbe usarli male sogna addirittura alla fine l'invenzione di un esplosivo incomparabile che potrebbe far ritornare la terra a una forma di nebulosa priva di parassiti e di malattie come quella che lui è e quelle che lui vive